Dopo sei anni di assenza alla sfilata dei carri fioriti di Sanremo in programma domenica 10 marzo, ci sarà anche il carro della città di Imperia. Lo ha confermato oggi il sindaco del capoluogo Claudio Scaiola, sottolineando che è impensabile continuare ad essere assenti ad una delle più importanti manifestazioni del ponente ligure, che rappresenta inoltre una vetrina delle bellezze del territorio. Il tema del corso fiorito sanremese di quest'anno è incentrato sul santuario dei Cetacei e sul mare e il tema del carro di Imperia sarà l'attività sportiva nel santuario Pelagos, con sport quali windsurf, kite e surf, sostenibili come la vela, più dinamici e praticati soprattutto dai giovani in ogni periodo dell'anno. I carri che prenderanno parte alla sfilata saranno in tutto 14, compreso quello di Sanremo, fuori concorso, che sarà dedicato alle spiagge.